ciao a tutti bentornati qui con pumping simulator 2 cioè io qua i familiari che mi girano in mutande voglio vedere quanto ci vuole per rinnovare casa 30.000 io 30.000 ragazzi chiudiamo la porta perché altrimenti il riscaldamento mi costa una fortuna allora andiamo a pompa di benzina l'ho aperta voglio andare al bazar a comprare un po di fiori per l'accompagna lì anche se bisogna stargli alla larga perché ogni volta che si avvicini che ti avvicini troppo questa qua ne sforna un bambino e non va bene ragazzi non c'erano tutti questi soldi dammene un paio poi non voglio venire qui adesso non lo voglio più ma allora più di questi non mi li da per quello ce l'ha questo cos'è ci provi mi dai un caffè grazie ho capito perché non lo bevi ho comprato il caffè perché non lo beve ok torniamo alla bomba di benzina ragazzi perché oggi dovremo andare a fare finalmente l'ufficio dove ha fermata bacca trota una delle volte compro una macchina però non so quanto ci vuole per una macchina vediamo un po quando ci vuole per una macchina secondo me ci vuole una barca di soldi per una macchina allora qua sotto c'è quello che vende la macchina usate no o no andiamo su una macchina un po economica oddio economica vediamo un po quanto vuole questa 25.000 No 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 E questo è idem con patate Questo ne vuole uguale Quanto ne vuole? 15.000 no 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 non abbiamo abbastanza soldi Torniamo indietro dove era la fermata Per adesso non se ne parla proprio di macchina Qua manco a bicicletta ci possiamo permettere Altro che macchina Dov'è l'autobus? Fermata ad autobus? Qua addirittura ci sarebbe anche L'autosalone Compriamo un ferrarino Questo cos'è? Il Lambo 16 21 Costano meno questi Che quelli che c'erano di là Questo 26 Il van 8.000 Beh forse è l'unico che più o meno ci possiamo permettere Sapete che vi dico Andiamo a piedi Per adesso Più avanti Compreremo e venderemo macchine Però per adesso Tutto a lavoro Benissimo Allora A me serve Ups C'è il ragazzino qua Scusa Vai Mi serve Il mangiare per il cane E il latte Così che almeno Gli do questo A bingo e bongo Il cane Mangiare per il cane C'è? Ok Mangiare per il cane Vendiamoci i soldi E ordiniamo subito Della roba che ci serve Allora Intanto abbiamo bisogno di Cominciamo da qua sopra Un po' di questi Un po' di questi Un po' di questi 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 Spendiamo intorno a un mille Questi due Questi qua Facciamo tre Ok Eh potevo passare Anche dal coso Ma ormai Ci vado dopo In caso Ok Aspetta che Voglio prendere Un'altra cosa Allora Un po' di lampioni Volevo prendere Dove sono? Qua Un, due Eh ormai Compriamole Tanto serve Stiamoci nelle altre due Dai No Vicino A casa No Qualcosa di diverso Aspetta Dov'era? Dov'era L'orsacchiotto E qua Ormai arriva A 3.000 E basta C'è Oh sì Ok Basta Ok Allora abbiamo speso Altri 3.000 Ma abbiamo Il negozio vuoto Ragazzi Quello In un modo o nell'altro Devo vedere Come cacchio si fa Che Ehi Ok 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 Le pulizie Si sono riprese Bomba di benzina Funziano Sì Questa Ha già dato Allora volevo fare L'ufficio Vediamo un po' Cosa Ups Quanto mi costa L'ufficio Perché non voglio Spendermi tutti i soldi 600 Ma si Facciamo L'ufficio Io boco L'ufficio Sembra un cesso Sembra un cesso 3.000 Addirittura C'è Dio buono Sembra un cesso Vediamo se Ci posso mettere Il computer Secondo me ci vorrà il tavolo Prima no Sta arrivando la roba Da magnano Ti va a mettere più Allora vediamo Il quadro Vediamo il quadretto Basta Posso metterlo No Nine Certo In una barracca Del genere Dove metto il quadretto Cagare Ancora troppo presto Per il quadro Ehi che mi aspettavo Chissà che cosa Manco il computer Ci posso mettere Probabilmente ci potrò Mettere dentro il tavolo Qualcosa Ma per adesso Prestino Che per adesso È prestino Cosa fa quello Vuoi farmi fuori Il gatto Volevo farmi fuori Il gatto L'amico Cioè ho fatto Allora la serra Non serve un tubo Sapevo Non facevo manco L'ufficio Forse mi ci vuole Aspetta Vediamo Il secondo cosa O il secondo step Quanto costa Ehi 3000 Cioè è tutto economico In questo gioco Vabbè Lasciamo stare Dai Do una sigaretta al gatto La vuoi una sigaretta? Oh il latte Aspetta che do il latte Il gatto Il latte al gatto Ehi Oh mi hai messo sotto il gatto Dio buono Al momento mi ammazza il gatto Pit cat Five times Ho battuto un altro Ho fatto un altro coso qua Niente male Niente male Ho dato da mangiare Cinque volte al gatto Ergatto Ergatto Dobbiamo comprare Altri po' di frigo Perché il latte Vuol fresco La coca La vuol fresca Ok Un po' di olio motore Ciao Bye bye Sandwich Comunque i soldi adesso cominciano a aumentare Finalmente direi Stamattina da quanto ho preso i soldi Che erano quasi Ci sono già quasi di nuovo Quattromila Oh quattromila Se penso le spese che ho Con tutti questi operai Qualcosa la guadagno Cosa è arrivato? Noodle Un po' di parole E' arrivato I noodles I noodles Good morning Noodles Un po' di cola 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 Proprio so se siete anch'io Quasi quasi Un po' di cola Cola Ma bevo io Cosa cos'è? Le birrette Qua Qua la posso mettere? Oh si Birretta fresca Secondo me non dispiace a nessuno Una bella birretta fresca Ragazzi Pringles Pringles Buonissimi quelli Ah Così era una cipolla Mamma di che erano buone Quella era la cipolla Uh Ciao Chio Buono Allora Andiamo a vedere Durante la notte Quanto mi ha Prodotto Il La paleolica No? Perché anche quella Porta dei prodotti Vediamo Porta dei prodotti Porta un guadagno Elettricità 243 No Allora dobbiamo guardare il giorno primo Vediamo 612 Ah Eccomi che niente male Dai Eh 6000 dollari Solo di roba Vabbè Aspetta che mi serve Oh Siamo senza diesel Che siamo senza diesel Bye Comunque ci vorrebbe un segnale un po' più grosso Perché quello là sotto si vede poco Ketchup Ketchup Mettiamo al lato la senap Oh è ketchup che uso io Stessa marca Ok Qua scorre 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 Qui Corre 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 dappertutto Che ci fa questo qua? Oh ciccio Alex Schlafen Tankwart Energy zero Ma io dico Ti metti a dormire Energy zero Alex Dove sei? Dio buono Allora Licenziamolo questo Alex licenziato Prendiamolo un altro Assumiamolo un altro di Alex Vediamo un po' cosa succede Questa poverina Allora Assumiamo un'altra che pulisce Un'altra Madeline Vediamo un po' Vediamo i miei Allora Questo qua Questo è al 60% Questo è al 40% Questo è al 10% Per fortuna che c'è Daisy Al 77% Allora facciamo una cosa Che è Assumiamo Un altro benzinaro Non ce n'è più Benzinari? No 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 Manager No Cosa me lo faccio con un manager? Baumaster Non mi serve un tubo Il contadino Non mi serve Questo è quello che invece Fa lo stoccaggio del materiale Daisy Allora Vediamo un po' Questo è al 59% E' quello che pulisce Madeline è al 2% Ma è solo Ne ho 2 adesso Allora questa licenziamola Che ne ho 2 Che altrimenti ne faccio con 2 Questa Daisy è a 77% Questo Alex è all'8% Alex Quante ne ho io Benzinare? Uno Due Due benzinare Un altro benzinare Posso assumerlo? Alex qua Assumiamone un altro Torno sui miei Questo qua Che adesso cancello Via Con il 7% Ok 90 90 Ok Va bene Allora qua Bisogno di diesel Cioè Sono meglio Sono energia Al 100% Questi qua Ok Devo stare pure attento Ma c'è una roba La Importuna che c'ho Rex Che controlla Allora portiamo dentro La roba Grazie Bravo Come via Come via Sì Parigi Guten Sì È digitale questo cos'è la sbarretta la sbarretta di scioccolà forse in frigo la barretta non non è stato massimo hello 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 grazie potrei assumere il ragazzino gli do 100 doll 100 dollari 20 dollari l'aiutante qua carica e scarica pacchi o qua è pieno ragazzino comprare sigarette compra il latte bravo ah di quelle caramelle secondo me ne ho ancora mi sa che ho finito andiamo sul metto sta roba qua nein ok gelati mettiamo dentro al freezer marash invece di algida marash birretta qua come si è messo quel birretto eh questo è pieno ah no è acqua minerale più che al birretta io pensavo fosse birretta invece acqua minerale ok allora ancora devo pensare al cane al gatto gli ho dato da mangiare si io voglio che era contenta quella tipa lì allora lampioni abbiamo detto che ce ne va uno qua dentro che qua non ce ne manco uno e poi almeno un po di luce in magazzino e poi il resto lo mettiamo qui così almeno mentre facciamo la pompa di banzana qua allora qua c'è là c'è uno qui uno qui quanto ne ho altri due allora uno qui e uno qui ok almeno quello è a posto lor sacchiotto li mettiamo qua che non ce ne so più altri orsacchiotti nel frattempo qua mi sa che devo assumere qualcuno lì per fare questa roba allora quello cos'è cioccolato orsacchiotti ok ecco il ror sacchiotto dovremmo aver finito mannaggia di nuovo sonno ma è possibile ormai devo finire di impostare la roba allora non compriamo più niente per un paio di per un paio di giorni perché voglio ecco c'è il mangiare per il cane aspetta un attimo dov'è il cane adesso è sparito il cane eccolo là no quello è il gatto gatto dov'è il cane dov'è il rex ui dov'è il rex alla ricerca di rex normalmente quando un cane gli dai da mangiare è sempre presente all'istante dov'è il rex rex ha porca trota mi è sparito il cane che mi è sparito è il cane è il cane mi è sparito prima due minuti fa era qua che mi è sparito il cane ops mi è sparito il cane ops qua è pieno quello è pieno oh dov'è il cane cos'è questa cosa sticky candy ci vanno qui sticky candy post e questo ah detersivo detersivo mettiamolo questo è pieno mettiamolo qua ok allora prendiamo di nuovo sta latta col mangiare del cane perché devo trovare eccolo dove è il cane 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 hai fame ho fame ho fame poverino ciao magna e non rompere cosa fai tu a pecora messa lì il gatto non ha fame mi sembrava anche giusto ho mangiato poco fa allora la paleolica cosa ci fai tu qui non è che ti sei imboscato con qualcuno c'è qualcuno dentro ho fatto capotare la tipa brutta cosa brutto 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 allora Jennifer qua come si è messi 8000 dollari per niente male diesel diesel siamo quasi vuoti ordeniamo il diesel così me lo trovo pronto poi chiudiamo anche la pompa di benzina dai che ore sono quasi tempo di arrivare il diesel ecco lì che arriva prendo pure i soldi così domani mattina possiamo andare direttamente in deposito hello e vediamo se c'è qualcosa di utile che lo compriamo altrimenti veniamo subito a lavorare ok sono le 11 ragazzi chiudiamo la pompa di benzina andiamo a nonna noi ci rivediamo ripreperpera riprepera noi ci rivediamo doman no domani cioè domani ore gioco o per meglio dire alla prossima puntata sempre con pumping simulator 2 abbiamo fatto l'ufficio ma volevo fare qualcosa un po' di più pensavo che mi venisse fuori qualcosa ma brutto 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 Nella prossima puntata andiamo a vedere, volesse che magari al magazzino abbiamo qualcosa che possiamo comprare per il nostro ufficio, ok? Questo è contento al 97%, il nostro amico può contattere da bene. Ok, allora io vado a letto, salvi saluto, noi ci vediamo alla prossima sempre con Pumping Simulator 2. Bye bye! Ciao!